Buonasera, sono Emanuela Tandello e vorrei innanzitutto ringraziare di questo graditissimo invito a parlare della poesia di Amelia Rosselli, per me si tratta di una richiesta che ho accettato con molto entusiasmo e con molto piacere perché per me Amelia Rosselli non è stata solo uno dei miei autori, oggetto di ricerca, di riflessione, ma soprattutto è stata una grande vicinanza che ha segnato un periodo importante nella mia vita, un momento di amicizia, di grande affetto e soprattutto Amelia è stata una grande maestra dalla quale ho imparato veramente molto sia a livello di vita che a livello di poesia e mentre pensavo come rompere il ghiaccio e cominciare a parlare di Amelia Rosselli ho visto su uno dei miei scaffali un libro molto bello che con Amelia non ha nulla a che fare, ma è un libro molto bello di Marie Dariussoeck su un'altra vita sulla pittrice Paula Maudeson-Becker, si tratta di una pittrice che era molto amica di Rilke e alla quale Rilke dedica la prima elegea di apertura di Requiem e riguardando la pagina iniziale ho colto delle corrispondenze che vi voglio offrire proprio per cominciare a parlare di Amelia la prima corrispondenza è là dove la Dariussoeck inizia affermando la presenza della Becker e continua cercando di identificare delle qualità che appartengono a questa figura così significativa e a un certo punto dice questo c'è in questa vita, in questa storia, c'è dell'orrore, della terribilità ma c'è anche dello splendore ed entrambi o meglio nessuno dei due è eludibile non solo non è eludibile ma non lo dovremmo eludere questo è un po' un monito perché quando si parla della poesia di Amelia Rosselli l'intreccio biografia-poesia è particolarmente complesso ed è proprio un intreccio di splendore, di orrore di vita, di morte, sono dimensioni temperate le une dalle altre dimensioni di grazia, di pesantezza che a nostro rischio e pericolo scindiamo, separiamo non è possibile privilegiarne uno sopra l'altro per una poesia che troppo spesso è stata dominata nell'essere recepita da una storia che è la storia violenta della famiglia a Rosselli una storia di perdita davvero enorme e una vita disegnata come un'inevitabile parabola verso la propria morte, verso il suicidio queste parole di Dario Sec ci danno un po' un monito su come affrontare, su come parlare di Amelia Rosselli tu sola torni, mi sfiori, qui ti aggiri vuoi urtarti a cosa che di te ignori e ti riveli non togliermi quello che lentamente imparo tu che hai più di ogni altra donna trasformato le cose questa è una citazione appunto da Requiem di Rilke e il potere trasformativo di questa vita e dell'opera di Amelia è spero ciò che in qualche modo verrà comunicato attraverso questa conversazione è chiaro che stiamo davanti ad una figura talmente gigantesca della nostra storia più recente e della storia della poesia contemporanea che è un po' difficile darne una visione quanto più completa possibile ma cominciamo dall'inizio per consenso unanime Amelia Rosselli è una delle maggiori voci poetiche del Novecento molto apprezzata già nel mondo occidentale tradotta in Francia e negli Stati Uniti come anche in questo paese non tradotta abbastanza non conosciuta abbastanza quanto si meriterebbe è comunque un autore di portata internazionale come Zellan, come Brodsky, come Plath la Gimborska, Anne Carson e adesso Louise Bloch se la pubblicazione del Meridiano dell'Opera Poetica nel 2012 ne ha sancito l'entrata ufficiale anche se peraltro alquanto tardiva nel Sanctum del Canone Poetico Italiano Amelia Rosselli ha continuato e per ragioni che spero vedremo ha continuato a godere di una reputazione da étrangère da straniera una reputazione che deriva da due matrici fondamentali la prima, la più ovvia forse quella più conosciuta è questo suo inusuale per un poeta italiano trilinguismo e la seconda matrice la conseguentemente la cultura internazionale cosmopolita all'interno della quale si è formata e il fatto di aver naturalmente pubblicato scritto e pubblicato in lingue altre dall'italiano è nota la descrizione che ne dà Pasolini al suo esordio sulla rivista Menabò nel 1961 Pasolini nell'introdurre una scelta di poesie che appartengono poi al primo libro variazioni bellica del 1963 Pasolini la definisce questa specie di apolide delle grandi tradizioni familiari di Cosmopolis in un certo senso questa è una definizione che Amelia accettava un po' astento soprattutto se va considerata insieme ad un'altra condizione un'altra dimensione sulla quale Amelia ha sempre battuto ha sempre sottolineato e cioè quella di appartenere ad una famiglia cosmopolita per forza in una in un'intervista rilasciata molti molti anni dopo Amelia avrebbe affermato siamo figli della seconda guerra mondiale Cosmopolita sottolinea è chi sceglie di esserlo o comunque questa è una chiosa mia Cosmopolita può essere una situazione normale in cui una persona ha genitori che appartengono a due paesi due culture diverse come è stato il caso di Amelia figlia di Carlo Rosselli e dell'inglese Marion Cave ma questo cosmopolitismo che può aver appartenuto ad una famiglia adoborghese quale erano i Rosselli abituata a viaggiare abituata a muoversi all'interno di una diaspora internazionale finisce per esperire per vivere un diverso tipo di cosmopolitismo per colpa della persecuzione politica di Carlo e Enello Rosselli e per ragioni politiche che poi avrebbero condotto ad un esilio forzato Amelia aggiunge noi non eravamo dei cosmopoliti eravamo dei rifugiati questa è una cosa molto importante rifugiati figlia di fuori usciti queste sono dimensioni sulle quali Amelia ribatte quasi in tutte in tutte le interviste per esempio rilasciate riguardo alla sua alla sua storia personale ora questa questo background questa provenienza non esclusivamente italiana ma anche segnata da queste dal fatto che Amelia è nata è nata durante l'esilio paterno a Parigi e a proda a proda in Italia solo all'età di 18 anni questo ambiente questa formazione è risultata spesso nel modo in cui Amelia è stata recepita in una dorata marginalizzazione ad essere definita sempre più spesso come un'eccezione come esistente ai margini dell'esperienza e della tradizione del canone del canone poetico italiano per molti versi questa questa marginalizzazione che deriva da fatti oggettivi cioè da questo approdare all'Italia da una dimensione europea e poi statunitense è un po' fuorviante perché soprattutto se teniamo conto del fatto che Amelia Rosselli durante tutta la sua vita da quando ha cominciato a pubblicare in Italia fino alla sua morte ha perseguito una attentissima autocostruzione proprio a livello di strategia editoriale perseguendo una posizione all'interno della poesia italiana e non al suo esterno e francamente nemmeno ai suoi margini ritornirò su questo più avanti proprio per questa ragione sarebbe ugualmente fuorviante negare la diversità di Amelia Rosselli che come in realtà molto più italiana tra virgolette di quanto si possa sospettare questo l'hanno riconosciuto due grandi poeti che di lei hanno scritto con grande ammirazione con grande rispetto uno è Andrea Zanzotto che nel suo bellissimo libro di saggi fantasia di avvicinamento nello scrivere del libro di poesia documento di Amelia Rosselli parla proprio di un paradosso di distanza e di presenza che non sono certo estranei alla nostra tradizione al nostro canone naturalmente ha in mente Petrarca quando parla di questo il secondo poeta è Giovanni Giudici Giovanni Giudici che è autore di una bellissima prefazione al poemetto Improntu che nel 1981 avrebbe vinto il premio Pasolini Giovanni Giudici di Amelia Rosselli loda la capacità rara di rivivere e di riconquistare la nostra lingua comune quasi che fosse una lingua straniera ora se è tuttora possibile definire Amelia Rosselli come un étrangère come una straniera questo avviene in virtù di quelle straneità e disappartenenza che sono tipiche dello straniero in quanto faccia nascosta della nostra identità che fin dall'inizio ne informano la vicenda umana e permettono alla sua poesia di incarnare quello sguardo dall'esterno che sarebbe risultato essenziale e portante di tutta la sua scrittura dunque quando si parla di Amelia ci trova in questo questa posizione un po' problematica di una presenza di una presenza che persegue la propria inclusione nel canone poetico italiano che nello stesso tempo rivela tutta una serie di diversità e di aspetti eccezionali che sono innegabili Amelia Rosselli cresce lontano dall'Italia è un'italiana che non conosce la sua terra sua perché prima di tutto da parte di padre e vedremo quale forza questo fatto abbia avuto per la sua storia appartiene una diaspora di come ho detto prima di rifugiati costretta a peregrinazioni esraticamenti che tragicamente non sono certo insoliti per la sua generazione riceve un'istruzione di base che non è né regolare né canonica non studia all'università è molto invece fedele ad una vocazione musicale e musicologica che avrebbe avuto una grande importanza per la sua scrittura in letteratura è un'autodidatta e durante la sua vita accumula un bagaglio notevolissimo e molto ampio di letture è ora possibile vedere la sua biblioteca che fu donata per sua volontà all'università della Tuscia a Viterbo e questa biblioteca rivela un fatto molto 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 apparente molto eclatante tutti quasi tutti i libri in essa contenuti sono fittamente ed attentamente annotati Amelia dunque in quanto poeta italiano non riceve una formazione simile a quella dei suoi contemporanei è una formazione molto diversa da quella storicistica e filologica per esempio di un montale possono esserci delle somiglianze con Ungaretti Ungaretti che approda anche lui all'Italia attraverso dall'Alessandra d'Egitto attraverso la Francia e che però è molto più integrato nel canone italiano di quanto non lo sia Amelia questa formazione è ciò che che è responsabile per tutte quelle voci poetiche tutte quelle influenze importantissime da Shakespeare a John Donne la poesia metafisica i francesi Rimbaud L'Otremont T.S. Eliot Influenze che stanno accanto e che per molti versi in molti modi finiscono per avere un'influenza su come Amelia legge e rilegge gli autori della tradizione italiana e Dante quel Dante tra l'altro che quando Amelia era bambina e poi ragazzina le veniva letto dalla nonna Amelia Pinkerle e che chiaramente conosceva conosceva in profondità Petrarca Leopardi Campana Montale sono diciamo i suoi i punti fermi sono punti fermi che appaiono in filigrana ma anche molto esplicitamente nelle nelle prime fasi della poesia di Amelia in particolare il poemetto La Libellula del 59 e il primo libro Variazioni Belliche quindi un approccio non letterario ma piuttosto basato su un interesse per per esempio il ritmo poetico e la forma poetica in rapporto agli studi che Amelia negli anni 50 avrebbe svolto presso la scuola di Darmstadt e diciamo un approccio che sarebbe sfociato in un famoso saggio intitolato Saggi metrici scusatemi spazi metrici che appare nella prima edizione del primo libro Variazioni Belliche si può essere tentati di seguire poi lo svilupparsi della poesia di Amelia Dà variazioni belliche primo libro secondo libro serie ospedaliera terzo libro documento e poi il poemetto Ampruntù diciamo che gli studi recenti svolti da da tanti giovani studiosi come per esempio Chiara Carpita o come Viviana Ponta e tanti tanti altri non voglio menzionarli tutti e spero che non che non si offendano se se non lo faccio ma quello che abbiamo imparato e che abbiamo imparato quando abbiamo messo insieme il Meridiano è che ehm accanto a questa ehm a questi libri italiani in italiano c'è tutta una faccia ehm oscura se vogliamo che è rappresentata dalla scrittura in altre lingue e soprattutto dalla scrittura in inglese queste opere le possiamo leggere prima di tutto nel volumetto primi scritti che Amelia avrebbe licenziato molto tardi nel all'inizio degli anni ottanta e poi nel nel libro che si intitola Sleep poesia in inglese eh che sarebbe apparso nel novantadue ora ehm c'è un intreccio molto stretto tra eh l'opera l'opera poetica in italiano e soprattutto l'opera poetica in inglese ciò che è importante è che Amelia cerchi in qualche modo di relegare parlavo prima di una strategia editoriale di autocostruzione il fatto che Amelia voglia relegare queste opere non in italiano a una dimensione di preparazione di esercizi esercizi di stile se vogliamo soprattutto a primi scritti e non invece una parte quello che in realtà sono cioè una parte fondamentale della della sua scrittura e della sua e della sua opera questo è naturalmente forse l'aspetto più eclatante di questa diversità di Amelia noi possiamo leggere l'Amelia in italiano come possiamo leggere l'Amelia in inglese il fatto la storia di come alla fine Sleep sia venuto ad essere è un libro che ha una una gestazione lunghissima che comincia negli anni 50 che si solidifica a metà degli anni 60 e poi il libro finisce in un cassetto Amelia cerca di farlo pubblicare in Inghilterra negli Stati Uniti ma non non ha successo ci sono ragioni molto molto precise e anche molto comprensibili del in quanto questo è un poeta che non che scrive in inglese che e soprattutto in un contesto che è squisitamente letterario poetico ma non ha in qualche modo un diretto rapporto con le culture contemporanee dell'inglese a quel punto è un discorso lungo e complicato nel quale non mi posso avventurare ma sono ben contenta di rispondere a domande anche perché come forse saprete io sono stata direttamente coinvolta nella creazione dello slip degli anni per Garzanti del 92 sono stata coinvolta nella traduzione delle poesie e poi quando abbiamo costruito il meridiano sono anche responsabile delle traduzioni di quelle poesie che non erano state incluse nel volume del 92 quindi ci sono come vedete sto cercando di darvi un'idea di questa diversità ma anche di questo desiderio di Amelia di essere essenzialmente un poeta italiano senza però rinunciare a questa sua importante importantissima parte linguistica identità linguistica che non è monolingue e non lo è non lo è mai non lo sarebbe mai stato parlavo prima della difficoltà di parlare della poesia di Amelia Rosselli in rapporto alla sua biografia ho menzionato un monito all'inizio che vorrei reiterare la storia di Amelia la storia personale che va appunto da questa da questo inizio da bambina così precocemente imparentato con con la violenza la violenza politica e la perdita personale questa questa storia e poi la la sua tragica la sua tragica fine sono un altro elemento che getta a una una luce sulla sua poesia che ha avuto certe volte delle conseguenze un po' un po' fuorvianti questa la poesia di Amelia non è una poesia confessionale non è una poesia autobiografica perché nel ne sa noi non riscontriamo il il qui e adesso il quotidiano ma piuttosto abbiamo un un progetto un progetto molto diverso che è quello di cui vorrei parlare adesso parliamo di di una poesia che è una poesia di perdita e una poesia di lutto ed è una poesia sul destino su un destino personale che non può essere sfuggito al quale non si può sfuggire che sembrerebbe aver segnato già un solco non italianamente nel quale il soggetto della poesia ricade sembra ricadere senza possibilità di evasione vorrei cominciare perciò con delle riflessioni sul nome di Amelia di Amelia Rosselli secondo Hannah Arendt il nome che dovrebbe definirci dire chi siamo definisce in realtà che cosa siamo ci interpella ci chiama ad assolvere un ruolo nel sociale ma nel farlo ci rende vulnerabili a un destino che possiamo non riconoscere come nostro o non riconoscere come il destino che noi desideriamo questo è un discorso che si trova molto spesso in Pirandello per esempio la vulnerabilità a cui il nome ci espone fa parte della nostra unicità e può essere in realtà ciò che ci dà il senso attraverso il dolore e la sofferenza che proviamo nell'affrontare ciò che veniamo chiamati ad essere ci dà il senso della frattura che esiste tra quel nome che ci dice cosa siamo e chi sentiamo invece di essere se noi prendiamo questa questa riflessione di Anna Arendt poi più avanti anche diciamo rielaborata da Giulia Cristeva o da Adriana Cavarero ci troviamo di fronte ad Amelia Rosselli come figlia eccellente chiamata con un nome che la fissa nel sociale e nello storico e che la precede paradossalmente la precede segnandone un destino quanto mai minaccioso il soggetto poetico di questa poesia si definisce in realtà come un corpo politico che esiste che esiste ai margini dell'ordine simbolico che è quello del nome del padre è un soggetto inerme e sottomesso ma che perseguitato da questo questo destino che sembrerebbe essere già stato scritto per lei ma che e qui voglio usare un termine che usa Rosselli occhieggia con malcelata speranza il chi che in quel corpo e in quella inermità non si riconosce non è la vita che va contro l'universo discorsivo ma il discorso stesso cioè il logos ad andare contro la vita e a minacciarla la vita la sua quella che questo soggetto tenta di difendere dalla dal già deciso dal già sancito la storia in Amelia come in morante con la S maiuscola cioè storia come scandalo come catastrofe e non solo come destino rischia ad ogni passo di imporsi su un soggetto che in realtà vorrebbe una storia diversa vorrebbe perseguire seguire nell'immaginazione nella creazione una un percorso tutto suo e molto diverso si tratta di una questa imposizione della storia che finisce addirittura per imporsi sulla sulla morte stessa del soggetto due versi da una delle poesie di documento ho distinto tra la vostra morte e la mia la mia non ha spazio naturalmente la morte di questi voi sono i morti sono i morti i morti di famiglia i molti morti di famiglia non c'è spazio per la mia in quanto diversa dalla vostra un'altra citazione molto famosa l'avrete l'avrete letta l'avrete sentita molte volte è la vostra vita che ho perso la vostra non la mia dunque interpellato da un nome che ne identifica il destino con quello della storia collettiva la storia del ventennio fascista la storia dell'antifascismo dei Rosselli la storia della loro del loro assassino questo destino cerca viene interpellato da questo soggetto alla ricerca del proprio chi che cerca scappatoie e vie d'uscita e trova rifugio vita prospettive di futuro nella poesia in una sfuggente consapevolezza di una unicità che in realtà è più sospettata che riconosciuta quindi il chi di Amelia Rosselli è la sua poesia notiamo in questa tutta la sua la sua opera un impulso a raccontare a raccontare come solo la lirica può in modo aperto frammentario sfuggente contro la costruzione contro un testo già scritto prodotto del ricordo e della sua rivisitazione unità coerenza ordine leggerezza sono ciò che la poesia persegue e ciò che le sfugge un'altra citazione da variazioni belliche contro d'ogni impero imperava un bisogno d'ordine quando la poesia di Amelia Rosselli è stata inizialmente recepita è stata descritta come un un cieco istintivo affidarsi scusate all'inconscio al disordine al al disordine del sogno per esempio ad una oracolarità questi sono tutti i termini da prendere con le pinze e di nuovo secondo me fuorvianti perché a tutta l'opera poetica di Amelia Rosselli invece ambisce a un questo bisogno di ordine di linearità di leggerezza la ci sono vari vari modi in cui questo può essere esaminato può essere discusso è anche vero comunque che se vogliamo identificare una figura che in qualche modo paradigmaticamente scusate incarna il soggetto rosselliano è quella della figliola col cuore devastato questa è una definizione che noi troviamo in una grandissima poesia di variazioni belliche dopo il dono di dio vi fu la rinascita dopo la pazienza dei sensi caddero tutte le giornate dopo l'inchiostro di cina rinacque un elefante la gioia dopo della gioia scese l'inferno non ve la leggo tutta però dopo dell'aria che scendeva delicata attorno al suo corpo immenso nacque la figliola col cuore devastato nacque la pena degli uccelli nacque il desiderio e l'infinito che non si ritrova se si perde questa fanciulla dal cuore devastato trova tutta una serie di declinazioni se vogliamo al femminile nella poesia di Amelia si tratta di personaggi femminili non a caso disegnati dal nome proprio Antigone Elettra Cassandra Ifigenia Andromaca si tratta di figlie e non è difficile riconoscerlo immolate al simbolico paterno si tratta di ruoli di un ruolo drammatico designato dal destino di cui però sbarazzarsi alla fine della rappresentazione altri versi da un'altra poesia bellissima di variazioni sparì per un breve viaggio impossibile tornò disfatta e disparita secondaria di importanza e primaria nella sua vittoria questa è una poesia dedicata ad Elettra ora di nuovo se vogliamo capire anche la tremenda coerenza fantastica straordinaria coerenza della poesia rosselliana possiamo affermare possiamo riconoscere come ci siano due figure che si muovono su un tragico palcoscenico come in una sacra rappresentazione la morte che è sempre uguale a se stessa puntuale e fedele una morte ansia una morte dolce compagnia morte che annuncia sempre di nuovo la sua importanza sto citando con il suo bagaglio di precoci violette una morte che non arriva mai sola ma sempre accompagnata da una folla di morti inquieti e rapaci dobbiamo dobbiamo andare a leggerci al dialogo con i morti con i morti del terzo libro documento quindi questa è una delle due figure la morte la fanciulla è la seconda figlia questi sono tutti termini usati nella poesia figlia figliola infante adolescente fiore timido passerotto rondinella cieca vittima colma di ansie e insieme sapiente e furibonda soprattutto in varie sessioni belliche noi ci troviamo davanti a questo soggetto fanciulla molto bellicoso molto ribelle che sfida a spada tratta la propria il proprio il proprio destino e che però comunque si trova sempre a discendere ad uno spazio quasi dantesco l'ha accompagnata da un cammino un cammino difficile un cammino doloroso così si svolse la danza della morte ore di preghiere e di fasto le ore intere che ora si spezzano sul cammino irto e la spiaggia umida il ghiaccio che muove questa è diciamo la è l'ambiente la dimensione alla fine di variazioni belliche dove questa ribellione questi ripetuti tentativi di costruire una propria storia di come diverse in quanto diverse finiscono su una spiaggia che è un po' la spiaggia del purgatorio ma è anche il lago di Cocito è come se una danza stringesse la fanciulla e la morte talvolta in un abbraccio la morte scrive forte del suo avere facendo sì vieni ed io rompendo ogni indugio fastosamente la saluto povera creatura è la morte se nell'inferno delle piccole ore sonnecchia anche fra le mie braccia molto spesso assistiamo a un cedimento e più spesso ancora a una resa che non è mai incondizionata una resistenza strenua appassionata un dialogo che tenta di capovolgere i rapporti di forza assistiamo cioè a quello che Enrico Testa ha chiamato uno strenuo allestimento di riti atti ora a contrastare ora a pacificare i morti e ad allontanare anche solo per un poco la minaccia di un abbraccio finale la protagonista assoluta in tutta la sua inermità e fragilità diviene proprio lei questa fanciulla e la sua visione adolescenziale della vita è un se vogliamo un abbracciare quella quella fanciullezza di cui di cui tanto ha scritto anche Leopardi un poeta al quale Amelia deve molto e al quale è molto 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 legata una delle poesie di variazioni belliche è dedicata ad Antigone e che cosa c'è in Antigone questa è una domanda che si fa Lacan e che Lacan chiede al pubblico del suo seminario sul dramma di Sofocle in Antigone c'è soprattutto Antigone non vi siete accorti che se ne parla sempre in tutto il dramma chiamandola Pais che vuol dire bimba questo per mettere le cose a posto sottolinea e per permettervi di accomodare la pupilla allo stile della cosa questo è quello che io incoraggerei a un lettore a fare accomodare la pupilla a questa dimensione soggettiva a questa figura a questa visione adolescenziale che permette sia una ribellione al al proprio destino che un anche il riconoscimento di un impossibile e inevitabile cedimento non ho parlato ma non è non è stato possibile ma se ne può senz'altro parlare insieme della della forma e della lingua nella quale questa questa poetica e questa visione della vita vengono vengono espresse l'ultima cosa che vorrei dire prima di fermarmi è che comunque è si tratta di un discorso che è affidato anche pur con tutta la resistenza e tutta la ribellione e la la sua trasformazione al discorso lirico la lirica in quanto rito arcaico di comunicazione con l'aldilà la lirica come recupero del lamento e del pianto pianto luttuosi una se vogliamo una lirica compresa trasformata mai davvero rifiutata in maniera in maniera antropologica in quanto speranza per la poesia di acquisire o di riacquisire una sua comunicatività e una sua leggibilità leggibilità è un termine che è stato usato da Giovanni Giudici proprio per descrivere la poesia di Amelia Rosselli dunque come la Sibilla di Ovidio questo questo poeta questa questa voce questa grande figura potrebbe aver detto ciò che mi è stato lasciato è la voce e per questa voce sarò conosciuta vi ringrazio per la vostra pazienza grazie